Stiamo vivendo uno shock senza precedenti, con costi umani, ma anche sociali e economici molto alti. Oggi noi abbiamo un dovere che è quasi un dovere morale. Siamo tutti chiamati a svolgere un compito grande. L'Italia ha dato un buon esempio in Europa. Grazie Italia. Tra marzo e aprile avevamo sognato un momento così. La lezione del Covid ci dice che non c'è politica, non c'è sovranità, che non c'è neppure identità nazionale senza l'orizzonte europeo. E questa sfida è una grande opportunità. Una grande responsabilità verso i nostri figli che debbono poterci chiedere che tipo di paese ci volete lasciare. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.